Un palcoscenico da Serie A il gusto di un confronto di alto livello tecnico, ma la vetrina prestigiosa della Coppa Italia è per il Catania anche un'occasione per dare spazio a chi ne ha avuto meno sinora. Si gioca alle 18 a Reggio Emilia contro il Sassuolo per il quarto turno di Coppa Italia e la squadra di Sottila affronterà l'impegno con la voglia di regalarsi un'altra serata di gala, di regalarsi il Napoli al San Paolo. Sottila ha convocato 22 elementi, ossia tutti i giocatori a disposizione, resta fuori solo Cristian Giamma infortunatosi nuovamente. L'Argentina ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori per qualche settimana. Ma come lo stesso tecnico Rosso Azzurro ha preannunciato saranno diverse le novità in casetnea. I nomi in pole per una maglia da titolare sono Pulidori in porta, Esposito, Lovric e Baraglia in difesa, Angiulio e Bucola a centrocampo, Mane, Brodice e Curiali in amanti. Una partita da giocare senza preclusioni mentali, senza l'affanno del risultato a tutti i costi, ma con la spensieratezza di un obiettivo grande già raggiunto e con la voglia di centrare quello che è più importante quest'anno. Perché la testa è al campionato e alla trasferta di Bisceglie, la porta per la Serie B e per i palcoscenici come quelli di oggi pomeriggio, passa da lì.